Tre piante grasse che sopportano senza problemi la stagione delle piogge. Le piante grasse sono apprezzate per la loro capacità di immagazzinare acqua e per la loro varietà estetica, ma non tutte tollerano l'umidità elevata caratteristica della stagione delle piogge. Ecco tre specie che, con un adeguato drenaggio, non temono le abbondanti precipitazioni. Ripsalis Queste piante epifite, tipiche delle zone tropicali e subtropicali delle Americhe, così come dell'Africa e del Madagascar, si aggrappano alla corteccia degli alberi, assorbendo l'umidità atmosferica. Con i loro steli pendenti formano suggestive cascate verdi, fioriscono in bianco o rosa durante l'inverno o la primavera. Sono ideali per essere coltivate in vasi sospesi, richiedendo luminosità ma senza esposizione diretta al sole. Echeveria Famose per le loro foglie carnose che formano rosette simili a fiori, le echeveria offrono una gamma di colori che va dal verde al viola. Semplici da mantenere, si adattano sia all'interno che all'esterno in climi miti, fiorendo in estate o autunno. Originarie del Messico e dell'America centrale, alcune specie si trovano anche nel nord del Sud America. Necessitano di annaffiature moderate, evitando l'umidità sulle foglie e bisogna proteggerle dalle temperature fredde. Graptopetalum Queste succulente presentano foglie spesse a rosetta nei toni del grigio, rosa e viola. Caratterizzate da una crescita vigorosa e da fiori stellati appariscenti, sono piante robuste che si adattano a varie condizioni di luce e umidità e si propagano facilmente. Originarie del Messico meridionale e degli Stati Uniti sud-occidentali, necessitano di un'annaffiatura settimanale in estate e bisettimanale in inverno. Con attenzione ai ristagni d'acqua che possono danneggiare le radici. Scegliere con cura le piante grasse in base al clima e alle stagioni è cruciale per garantire il loro benessere. Ripsalis, Echeveria e Graptopetalum sono esempi eccellenti di piante capaci di affrontare le piogge abbondanti, purché coltivate nelle condizioni idonee, arricchendo gli spazi con la loro bellezza e resistenza. Se questo video ti è piaciuto segui il nostro canale Pianta Succulenta. Lascia un mi piace a questo video e se hai qualche domanda o qualche pensiero da condividere sentiti libera di commentare. Piantare Grazie 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 Grazie